Il Comila è impegnata da tempo nello sviluppo della realizzazione di prodotti e di nuovi servizi digitali per poter implementare e attuare sullo sviluppo di soluzioni fisiche. Stiamo lavorando con molti partner tecnologici nel cercare di trovare le componenti tecnologiche hardware e software per creare un ecosistema di una piattaforma digitale che ci permetta di creare questi servizi tenendo l'esperienza dei nostri clienti al centro di questi servizi. Quindi partiamo sempre da un approccio customer centric nell'adottare le tecnologie più adeguate per soddisfare queste esigenze. Stiamo lavorando sia con Microsoft, con IBM, con A2A e con altri player del mercato proprio per realizzare questi nuovi servizi digitali tenendo anche presente l'esigenza dell'evoluzione dei nostri clienti futuri e delle nuove generazioni.